Da piccolo venivi a sceare al Terminillo, come hai detto te, in 30 anni è cambiato poco niente, più niente che poco. Grazie a Dio aggiungerei, sono delle poche certezze rimaste nella vita, c'è il Terminillo, così era, così è, e mi auguro che così rimanga negli anni a venire. Magari qualche miglioria qua e là. No, 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 ci piace così, antichi te, un po' vintage, un po' 60, 70, ci piace così. Senti, raccontaci un po' qualche ricordo di quando eri bambino e venivi qui e hai imparato a sciare qui. Ah, qua ho imparato con gli sci da piccolissimo per poi passare con lo snowboard sempre da un po' più grandicello in realtà. Beh, qua se impari a sciare qua, come dicevano i maestri, puoi sciare in tutto il mondo, facilmente anche, perché qui sci in mezzo a ghiaccio, rocce, alberi, radici, tutto. Quindi se tu riesci a stare in piedi qui e non ti spacchi, allora sei in grado di sciare ovunque, sulle Alpi fai un figurone. Proprio un figurone. Quindi questo è uno spottone per il terminillo che poi distribuiremo nel resto del mondo. E senti, invece come attore essere presente qui in un festival che è neanche bambino ma è proprio neonato, un paragone un po' anche se azzardato forse con gli altri. Esatto, al Sundance, visto che insomma la neve è poca ma c'è ricorda. Sì, siamo qua in vestiti di produttori in realtà per cui abbiamo portato dei prodotti di ragazzi che abbiamo sostenuto, in cui crediamo fortemente, sono meravigliosi. Niccolò Senni, Matteo Nicoletta per un prodotto che si chiama Segreti che andrà presto su Discovery. E un'altra cosa che abbiamo prodotto sempre noi è il Camerlengo per la regia di Marco Castaldi che è un'idea geniale sull'organizzazione del Giubileo di Roma. L'abbiamo fatto uscire il mese scorso sulla nostra piattaforma, su Gufi. Siamo contenti, sono contento per questa iniziativa perché mettono insieme ragazzi con tanta creatività, tanta veramente voglia di creare contenuti innovativi su piattaforme diverse e questo potrebbe essere finalmente un festival dove non c'è Glamour, per forza di cose, però non c'è Glamour neanche al Sundance, quindi a quel posto dove tu vuoi veramente incontrare i filmmakers per sperimentare, per condividere, per creare sinergie. Quindi si parla di film, si discute di progetti, si scambiano numeri e si creano dei rapporti che poi possono continuare nel tempo a Roma e per mettere su progetti nuovi. Sono molto contento che abbiate fatto questo festival e sono contento anche di essere qua insieme ai nostri ragazzi per la prima edizione e mi auguro che questo sia un inizio di una serie di appuntamenti qui a Terminillo che possano continuare nel tempo, per cui voi che avete il potere, voi istituzioni, sostenete questi ragazzi affinché il Terminillo Film Festival continua a vivere, abbiamo tanto bisogno di arte in questo paese, per cui andiamo avanti così, per favore. Senti, parlando di possibili media tra cinema, televisione, web series, secondo te si potrà camminare in parallelo oppure il cinema continuerà a avere la sua nicchia, però insomma anche magari il web si farà a strada? Così come hai detto tu, nel senso che sono arti, diciamo che è lo stesso sport ma è diverso il campo da gioco, ma il teatro non è morto quando è arrivato il cinema, il cinema non è morto quando è arrivata la televisione, la televisione non morirà quando adesso che c'è il web, sono soltanto piattaforme diverse, quindi permettono a chi produce contenuti di sperimentare contenuti su piattaforme diverse, quindi è una pluralità di offerta e credo che sia la cosa migliore perché tu puoi continuare ad avere prodotti per il cinema pensati per il cinema, girati per il grande schermo e un contenuto mobile, come lo chiamiamo noi, l'entertainment mobile che è una sorta di, non è una sorta, è praticamente la fruizione dei contenuti di entertainment in movimento, con timing ridotti, 3-5 minuti su piattaforme ovviamente su device come il telefonino piuttosto che un iPad o un computer o la televisione, quindi sono prodotti dello stesso sport, è sempre recitazione, è sempre fiction, è solo che cambia la piattaforma. Tu cosa preferisci? Ma è diverso, nel senso, io vengo dal cinema, sono iniziato con il cinema e continuerò con il cinema tenendolo nel cuore come così con il teatro, per cui da quel punto di vista sono proprio vecchio dentro e fuori, però mi rendo conto, ci siamo resi conto del motivo per cui è nata la nostra produzione, del motivo per cui è nata Goofy, la piattaforma su cui stiamo trasportando e stiamo mettendo i nostri contenuti, i nostri che vuol dire europei, perché la nostra ambizione è quella di unire i filmmakers di tutta Europa, indipendenti e cercare di fare delle cose insieme, quindi creare delle sinergie, non rimanere più soltanto noi italiani o i francesi o addirittura divisi anche in Italia per paesi e città, cercare di unire una generazione di filmmakers che hanno voglia di confrontarsi e crescere insieme. Il web te lo permette per una questione di costi, per una questione di velocità, per una questione di facilità, di fruizione, perché tu una volta che hai messo un contenuto su una piattaforma come la nostra o come può essere Netflix piuttosto che altre la vedono in tutto il mondo, quindi bypass il discorso delle sale, degli esercenti, dei distributori, riesci ad avere un contatto diretto te e l'utente finale, la user experience dell'utente è una cosa che tu puoi controllare, cioè tu puoi far vedere alle persone ciò che vorresti vedere tu per primo, puoi controllare il meccanismo di fruizione del contenuto perché tu sai come vorresti vederlo, quindi le puntate di una serie sono tutte insieme, non una puntata da ogni due settimane, io impazzivo, non potevo vedere film in quel modo, le serie o compravo il cofanetto o non le guardavo apposta. Adesso che abbiamo piattaforme Netflix per esempio che le mette tutte insieme noi facciamo la stessa cosa, cioè le serie, le giri online, poi l'utente che decide come distribuire il tempo, queste sono cose che tu puoi fare con il web perché permette un'interazione un po' più, una partecipazione un po' più attiva dell'utente, cosa che la televisione non ti permetteva, cosa che il cinema non ti permetteva, ma sono arti diverse ma complementari, quindi andranno avanti e continueranno anche in base allo sviluppo della tecnologia, chissà che tra 10 anni o 15 anni non inventeranno, non lo so, un ulteriore sistema tecnologico che ci permetterà di vedere contenuti di animazione o contenuti di entertainment e di fiction, boh, con gli ologrammi, non lo so, forse, ecco questa potrebbe essere mia idea.